Buonasera a tutti e benvenuti al mio appuntamento quindicinale, parlerò un po' dei fatti di questo periodo, di questi 15 giorni e per restare in tema inizierò subito con il tema che in questi giorni riempie un po' le radio, la televisione, l'argomento è delle ONG, quelle che soccorrono gli immigrati in mare. Ebbene fino a poco tempo fa, parlo del governo italiano, per fortuna esistevano diceva il governo italiano, perché queste aiutano a salvare molti emigranti, molte vite umane, che poi questa vita umana viene sempre portata in auge in certi momenti, in altri momenti, guardiamo anche nel mondo del lavoro, la vita umana, quel lavoro che ci fanno fare a volte se ne dimenticano di questa cosa importante della vita umana. Ebbene, cosa è successo? È successo che il ministro degli interni ha fatto un codice etico per queste ONG, per soccorrere in mare e alcune organizzazioni ONG, fra cui i medici senza frontiera, rifiuta di sottoscrivere questo codice del ministro degli interni e la televisione parla poco, non se ne sente molto il motivo perché questi medici senza frontiera non firmano questo codice, perché la televisione è di parte e quindi parla sempre per la voce del potente e del governo. Invece volevo leggervi brevemente quello che scrive Saviano, Roberto Saviano, quello che ha scritto anche Gomorra e soprattutto per quanto riguarda si è sempre battuto contro la mafia e altre cose e un articolo apparso il 5 agosto sulla Repubblica e dice chiaro, io sto con medici senza frontiere, un errore introdurre il reato umanitario e ve lo leggo perché è interessante capire in pratica dall'altra parte le ragioni perché non si sottoscrive questo codice e inizia così Saviano, io sto con medici senza frontiere, lo voglio dire ed esprimere chiaramente in un momento in cui sta avvenendo la più pericolosa delle dinamiche, ossia la criminalizzazione del gesto umanitario, sto con medici senza frontiere nella decisione di non firmare il codice di condotta per le ONG che fanno salvataggi in mare voluto dal ministro Minniti. È una scelta importante e sostanziale, non un capriccio. Medici senza frontiere, ricordiamoci che premio Nobel della pace del 1999, difende un principio fondamentale, la neutralità. Questo significa che avere agenti armati sulle navi sarebbe la fine di quel principio. Il lettore, forse ingenuo, mi dirà, ma come? È una garanzia per tutti avere agenti armati sulle navi di medici senza frontiere, per i migrati, per gli operatori volontari e per la sicurezza. Invece non è così. E per capirla basta conoscere le dinamiche di chi opera in situazioni difficili, di emergenza sanitaria, di guerra, dove l'assoluta assenza di armi nei luoghi di soccorso rappresenta la vera protezione. Il segnale di divieto che disegna il Klaschnikov inserito nel cerchio rosso sbarrato è fuori da ogni laboratorio, ogni tenda, ogni presidio di medici senza frontiera, emergency e non solo. L'elemento fondamentale che permette alle ONG di agire in sicurezza e con la propria identità non avere armi in un luogo di soccorso. Non significa che sono luoghi dove la legge è soppressa, tutt'altro. Infatti, qualsiasi sbarco di profughi che effettua medici senza frontiera viene coordinato dalla guardia costiera e una volta a terra c'è totale collaborazione con le forze di polizia. Ma a Mosul, ad Haiti, in Hong Kong, i soldati di qualsiasi esercito lasciano le armi fuori dai presidi di medici senza frontiere. Invece il governo italiano vorrebbe portare agenti armati nelle navi. Non firmando il codice, medici senza frontiera salva i suoi operatori e la sua condotta. Tutte le parti in causa nei conflitti devono sapere che medici senza frontiere non ha armi, mai non nasconde soldati sotto le sue pettoline, non è un luogo utilizzato per indagini, ma solo di soccorso. Questi sono i motivi per i quali medici senza frontiera non ha sottoscritto il codice. Altre ONG possono firmare il patto miniti perché non hanno presidi in zone di guerra o perché facendolo sanno di non mettere a repentaglio la propria identità, ma non medici senza frontiere. In questa triste fase storica si sta configurando in Italia, come ha descritto Luigi Manconi sul manifesto e come scrive da giorni l'avvenire, il reato umanitario è il frutto di mesi di confusione durante i quali tutte le parti politiche hanno soffiato in un clima di perenne campagna elettorale, sul fuoco della paura. Dall'aberrante definizione di taxi del mare di Di Maio, sino a chi pone nello stesso piano gli affari criminali fatti da mafia capitale e il business dei trafficanti con l'attività di chi salva vite. Tutti luoghi comuni, banali, semplici, veloci per configurare il reato umanitario. Mi domando a questo punto dove nasce tutto questo odio? Siamo di fronte a dinamiche psicologiche semplici, basterebbe rileggersi Psicologia di folle di Gustavo Le Bon. Di fronte al senso di colpa di essere incapaci di agire, dinanzi a centinaia di bambini che annegano del Mediterraneo, si accusa chi agisce. La stessa cosa avviene con le mafie. Spesso è più facile attaccare chi combatte la mafia piuttosto del mafioso. Un paese al colasso economico e demografico ha l'esigenza di trovare altrove i colpevoli. I migranti sono il capo respiratorio perfetto. Più è semplice la lettura, più verrà adottato quel bersaglio. Manca il lavoro? Colpa degli immigranti. Aumentano i crimini? Colpa degli immigranti, anche se i dati ci smentiscono. Anche se si ha una falsa percezione del problema. Furbescamente, chi soffia sulla paura, sul razzismo, vuole approfittare della enorme possibilità di distrarre dal dramma immigrazione. Se il problema sono gli immigrati, l'incapacità economica di far ripartire il paese, di snellire le dinamiche burocratiche, che di contrastare il crimine organizzato diventa un coloraio. La coperta dell'immigrazione protegge tutti, per cui quando Renzi dichiara pugno duro contro le ONG che hanno contatti con i trafficanti, senza conoscere i termini dell'indagine, bisognerebbe rispondere che si sarebbe piaciuto sentire tuonare contro la vicenda delle armi italiane vendute in paesi di guerra. Ne abbiamo sentito, negativamente, non abbiamo sentito insistere meniti nella necessità di aumentare la quota di PIL destinato ai paesi in via di sviluppo, che oggi è appena del 0,17%. Parole legittime le loro, ma che li precipitano al di fuori della tradizione di sinistra del paese. Ma non solo, continua dicendo che in Uganda, salto perché effettivamente poi diventerebbe troppo lungo, dice che il riguardo al Mediterraneo e a vivere il problema dei profughi, anzi sono quasi 3 milioni i rifugiati intorno al lago Chad, dove si sta consumando una delle peggiori crisi umanitarie del nostro tempo e che tocca l'intera regione, compresa tra il Chad, il Niger, la Nigeria e il Camerun, profughi sfollati che vivono in condizioni infernali a Diffa, a Dasaga, a Yebi e cito solo alcuni di quei luoghi, dimenticati e infinitamente più numerosi di quelli che si affacciano sulle rive del Mediterraneo. In Uganda i profughi arrivati in seguito alla riaccendersi della violenza in Sud Sudan sono oltre 900 mila, molti al di sopra delle migliaia che l'Europa non riesce e non vuole gestire. Così continua Saviano, quindi vi invito a andare a leggervi questo scritto che lo trovate su Repubblica del 5 agosto. Ma una critica, se posso fare, un appunto che posso fare a Roberto Saviano è che non mette proprio il dito sulla piaga. Chi è la causa? Qual è la causa che porta a far sì che il mondo sia diviso tra ricchi e poveri? Qual è la causa di questi immigrati? Ebbene la causa è di questo sistema che ha bisogno delle divisioni, che ha bisogno di creare povertà da una parte per creare ricchezza. Deve creare bisogno, non abbondanza. Il bisogno allora alle persone per avere quello che la natura mette a disposizione si fanno la guerra, si uccidono. Semplicemente voglio ricordare che in Italia l'1,2% delle famiglie è in mano quasi il 30% della ricchezza, cioè l'appropriazione privata dei beni che la natura mette a disposizione, che sarebbero abbondanti per tutti, che crea queste situazioni. Questo è il vero problema, andare al nocciolo del problema, quindi è questo sistema che ha bisogno di creare ricchi da una parte e poveri dall'altra, perché i ricchi ci fanno sì che noi, e Saviano lo ha detto chiaramente, noi non vediamo il vero problema che sono loro, loro che si appropriano delle ricchezze del pianeta, che sono a disposizione di tutti e non a disposizione di pochi. Il secondo argomento che volevo trattare è quello della siccità, abbiamo sentito il lago di Bracciano, che non c'è più acqua, questo caldo infernale, si dà sempre tutta la colpa all'inquinamento, senza andare a fondo sul problema. Ebbene, la penisola italiana in fondo non è senza acqua, non è arida di per sé, il problema principale, e l'abbiamo sentito dai telegiornali, è la manutenzione. La manutenzione è quell'attività che produce meno profitti che non la progettazione e la costruzione di grandi opere come può essere la TAV, come può essere il MOSE, e poi abbiamo visto soprattutto il MOSE come è andato a finire, cioè tangenti a destra e a sinistra. Per controllo e gestione del territorio si intende la messa in sicurezza di acquedotti, canali, viadotti, strade e abitazioni. A proposito di abitazioni, fa sorridere ancora chi si scandalizza o finge scandalizzarsi perché quell'imprenditore godeva perché c'era venuto il terremoto, in fondo lui erano profitti. non ci si può scandalizzare perché se si accetta questo sistema, questo modo di produrre basato sul profitto, quindi sullo sfruttamento del lavoro di altre persone, se questo dice finalmente poi io ci guadagno, ma la stessa cosa è nelle fabbriche dove si muore con dei tumori, all'ILVA o al petrolchimico di Porto Marghera, non è la stessa cosa, si vive sulla pelle dei lavoratori, la Tyson Group di questi incidenti, di questo non se ne parla, si parla o ci si scandalizza perché lui sui morti, i ben pensanti, sui morti gode perché si farà i profitti e tutti gli altri, quelli che muoiono in fabbrica per il profitto, di questi ci dimentichiamo, ne muoiono di media 3 al giorno per il profitto. e quindi che la siccità è un problema sociale, non è intanto un problema tecnico la risoluzione del problema dell'acqua, è un problema sociale perché c'è bisogno di trovare il profitto da qualsiasi parte, sappiamo, l'abbiamo visto, che è più facile, si fa più profitti dove c'è una massa di denaro enorme e quindi lo vediamo anche sulle nostre città, si progetta tangenziali, si progetta circonvalazioni di migliaia di chilometri e poi abbiamo i tombini di scarico dell'acqua piovana che non funzionano, si allargano gli scantinati proprio perché manca il minimo di manutenzione. A tal proposito io volevo consigliarvi un libro di Amadeo Bordiga, è una raccolta poi fra l'altro di scritti suoi, che scriveva sui filo del tempo, chi è Amadeo Bordiga, Amadeo Bordiga è stato il primo fondatore del Partito Comunista d'Italia del 21, con Gramsci e altri e il titolo è significativo, Drammi gialli a sinistri della moderna decadenza sociale, il libro è vecchio e degli anni 70, ma comunque lo potete trovare scansionato anche sul sito www.quinterna.net, dove lui riporta una serie di disastri, dal disastro del Vaillant, dall'uscita della traccimazione del Po, dal Titanic, eccetera, quindi porta questi esempi e va a fondo e sviscera il problema, il problema è di lesinare sui costi fissi per andare ad esaltare il profitto. Vi leggo due cose, che dice che piova senza sosta o non piova affatto, per intere settimane è oggi certamente un fatto naturale, ma che ne seguono inondazione o una siccità è un fatto sociale, analogamente le scosse sismiche delle ante sfuggono al controllo dell'uomo, ma il fatto che distruggano città del Perù, mentre Machu Picchu vi resiste da secoli, ha cause sociali e poi riporta anche attraverso Marx, gli iscritti sul Capitale, come la causa, l'imputato di tutte queste cose è il profitto che passa sopra alla società. Un'altra cosa che a proposito di profitti dove si sprecano milioni di Euro, addirittura di miliardi, oggi è uscito un articolo del 7 agosto che dice gli F35, allarme della Corte dei Conti, costi raddoppiati, ma non possiamo ritirarci, i costi raddoppiati, sappiamo la vicenda un po' degli F35, sono stati ordinati, prima erano 130, poi sono stati ridotti a 90 F35 aerei per un costo di circa 100 milioni di Euro l'uno, quindi se i costi sono raddoppiati sono 200 milioni di Euro ogni aereo e moltiplicato 100, fate il conto voi, quanti soldi andremo a buttare per questa macchina da guerra, mentre per noi aumentano i sacrifici per far sanare i bilanci dello Stato. Ultima cosa, visto che siamo in clima vacanziero, vi consiglio un libro, una cosa che io vi consiglio è che è simpatico, è un libro di Rifkin e questo libro si intitola Jeremy Rifkin, la società a costo marginale zero. Allora è interessante perché questo è un professore universitario americano, è un penivendolo, uno che scrive molto bene, però segue la nuova, tutta la nuova tecnologia, poi oltre alla nuova tecnologia, come la società sta cambiando attraverso la nuova tecnologia e quello che è interessante di questo libro è che lui essendo un borghese e quindi non ha una visione politica di una società diversa per cui rileva alcune cose e dà dei suggerimenti se cambiasse, se venisse modificato, ma semplicemente il sottotitolo del libro che è la società a costo marginale zero dà in pratica la fine del sistema di produzione capitalistico che si continua in questo modo. Però a noi interessa questo, leggo un passo di Carlo Marx dal Grundris che dice che la società futura agisce già su quella presente, la società borghese basata sullo scambio di valore genera rapporti di produzione e circolazione che rappresentano altrettante mine per farla esplodere, rapporti di produzione sarebbe le fabbriche, la circolazione oggi è la logistica, esse, cioè questi due rapporti di produzione e di distribuzione sono una massa di forme che si oppongono all'unità sociale perché hanno interessi completamente diversi, chi produce macchine non ha in modo organico tutti i produttori di macchine, produciamo quanto serve per l'umanità, ma ognuna si fa concorrenza, produce per il mercato, non quanto serve all'umanità. E quindi dice questo carattere antagonistico non potrà mai essere eliminato attraverso una pacifica metamorfosi, d'altra parte se noi non potessimo già scorgere nascoste in questa società, così com'è, le condizioni materiali di produzione e di relazione fra gli uomini corrispondenti a una società senza classi, ogni sforzo per farla saltare sarebbe donchisciottesco. E quali sono questi elementi che sono nascosti in questa società che lui analizza, la società borghese? E lui analizza il fatto di essere tutti connessi in rete. Oggi attraverso la distribuzione sappiamo quanto serve all'umanità e quindi quanto serve per produrre. La stampante 3D per esempio, la stampante 3D è il contrario della produzione dove si va per sottrazione, faccio un esempio, se dobbiamo costruire un'auto, una lamiera, viene tagliata e quindi c'è un sacco di spreco quella lamiera tagliata, mentre la stampante 3D va per aggiunta, quindi aggiunge della lamiera e quindi gli scarti sono minori, ma ci si può produrre a distanza quello che serve. Ed è un libro un po' voluminoso, sono più di 300 pagine, però è interessante nel leggere come questa società può fare il rovesciamento della prassi. Cosa vuol dire? Non produrre più a caso per il mercato, quanto il mercato assorbirà, ma precisamente la produzione è commissionata in base ai bisogni sociali e a quello che la natura ci può dare, in armonia con quello che la natura ci può dare e non come adesso depredandola e facendo in modo sì che molte persone siano scarse del bisogno che la natura dà. Io con questo concludo, vi invito a leggere questo libro, che lo potete trovare in qualsiasi libreria, come i drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale, li leggete augurandovi buone ferie, leggendoli sotto l'albero, no sotto l'ombrelone in spiaggia, ma riflettendo molto su quello che viene scritto e detto. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, ci risenteremo fra 15 giorni. Ciao! 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 Ciao!